Adamo Zambon, 30 anni, consigliere comunale uscente del Partito Democratico e il candidato sindaco del centro-sinistra per Cittadella. Laureato in lettere a Padova, attivo nel mondo del sociale con la parrocchia, si presenta agli elettori annunciando un programma che vuole segnare un cambio di passo per la città murata. Vogliamo portare Cittadella ad essere il primo polo attrattivo del Veneto dopo i sette capoluoghi di provincia, per razionalizzare le risorse, per difendere l'ospedale, per portare a casa bandi europei e anche per pensare a una nuova progettazione urbanistica e della viabilità per incentivare anche i produttori locali. Accanto a Zambon rappresentanti del Partito Democratico e della lista civica Cittadella Futura, parti di una coalizione che intende spalancare le porte alla società civile. Crediamo che in questi anni a Cittadella ci si sia un po' limitati ad amministrare l'esistente, ma non si sia fatta politica. Politica la si fa innanzitutto quando si costruiscono dei progetti ambiziosi, nuovi. Noi puntiamo a rivolgerci all'Europa per attrarre qui fondi e investimenti. All'orizzonte una serie di incontri con cittadini, associazioni di categoria e sindacati per discutere e far conoscere il proprio programma. L'obiettivo naturalmente è di interrompere il lunghissimo dominio del centro-destra in comune. Questa è la volta buona perché c'è un gruppo di amici, di amministratori che dopo molti anni hanno deciso di correre assieme perché hanno esperienza e perché hanno una proposta seria e concretizzabile.